e sulle note di questa nuova musica ben trovati fratelli tutti buona domenica fratello buona domenica sorella buona domenica a tutti ecco qua abbiamo già anticipato un po il tema di cui parleremo papa francesco ha consegnato nel giorno ieri praticamente il 3 ottobre oggi è san francesco ecco perché mi sono un po così incagliata con le parole ha consegnato l'esortazione apostolica fratelli tutti una giornata importante sia per papa francesco perché comunque lui si ispira molto al noto santo francescano sia per tutta la comunità anch'essa è una giornata storica abbiamo rivisto dei momenti molto particolari della nostra vita di chiesa e di comunità cristiana francesco ritorna ad assisi ritorna a chiedere l'intercessione di questo santo che è il fratello universale ecco perché forse ha scelto questa cornice particolare che dà ancora più suggestione e rilevanza al messaggio che ha consegnato tutta la chiesa in questa esortazione apostolica uno solo il vostro maestro ci dice anche gesù nel vangelo di matteo e voi siete tutti fratelli la fraternità diventa addirittura per papa francesco sul monito di quello che ha detto l'unico maestro diventa l'antidoto la medicina che cura ogni tipo di egoismo ogni tipo di indifferenza ecco diciamo così ovviamente lo confessiamo non abbiamo avuto il tempo di leggerla ancora no ancora torneremo sull'argomento però ecco qualche spunto per riflettere oggi ci sta bene perché sicuramente è un messaggio ecumenico quello di papa francesco la fraternità è un linguaggio che vale per tutti basti pensare per esempio ai tre atteggiamenti che sono stati i fondamenti della rivoluzione francese nel viottesimo secolo libertà uguaglianza e fraternità però sono tre atteggiamenti che si sono sviluppati in maniera diversa nel corso dei secoli non sempre sono andati di pari passo forse la fraternità è l'unico di questi tre atteggiamenti che è rimasto un po indietro rispetto all'uguaglianza rispetto alla libertà ma è proprio la fraternità che dà la spinta una spinta di rinnovamento a queste due sue sorelle che forse hanno fatto qualche passo in più negli ultimi secoli la fraternità ecco lo dobbiamo riconoscere è rimasta un po indietro e forse per questo motivo papa francesco ha tenuto a sottolineare questo aspetto che ci fa comunità noi siamo tutti fratelli perché ci riconosciamo innanzitutto tutti figli dello stesso padre noi abbiamo un padre in comune per questo siamo tutti figli suoi e per questo siamo tutti fratelli al bando ogni atteggiamento di indifferenza di mancanza di solidarietà di disistima di violenza di soppruso al bando tutto questo per far sì che il mondo si costruisca su relazioni nuove vere che non partano dal lievito dei farisei no che è l'ipocrisia il vivere solamente di facciata l'amare i primi posti nelle piazze i saluti i primi saluti nelle sinagoge nel vivere di apparenza no non va bene tutto questo bisogna costruire rapporti che sanno di pane buono che siano impastati con un lievito nuovo con con un fermento nuovo che è proprio il sentirci tutti parte di una stessa umanità questa di salire un po di livelli no di livello di sentirsi un po meglio degli altri è una malattia tra virgolette che colpisce tutti però colpisce veramente tutti è una delle malattie universali ecco se la fraternità è indicata come strada maestra per costruire un mondo migliore c'è anche un antimondo che noi stiamo costruendo che è quello appunto basato sull'ipocrisia sul fariseismo che è un atteggiamento di 2000 anni fa ma è un atteggiamento anche anche di oggi che è quell'attaccamento morboso a se stessi senza avere la capacità di far spazio all'altro nella propria vita all'altro con tutto quello che l'altro rappresenta le sue esigenze le sue domande le sue richieste anche le sue lentezze perché no noi siamo chiamati a metterci gli uni al passo degli altri per camminare insieme e per permettere all'unico signore che ci guidi che stia davanti a noi e mai noi avanti a lui l'esortazione verrà pubblicata divulgata meglio a mezzogiorno di oggi ma ovviamente le voci già circolano insomma gli spunti già ci sono qualche anticipazione è stata già fatta e l'ha firmata ieri lo ricordiamo fratelli tutti il titolo qualcuno però ci ha tenuto a fare un po una provocazione perché non fratelli e sorelle ma guarda io penso che papa francesco attinga innanzitutto dalle scritture e il signore nel vangelo di matteo al capitolo 23 in questo lungo discorso di congedo che prepara la sua partenza dal mondo con cui prepara anche i discepoli ad affrontare con il giusto equipaggiamento le sfide del mondo parla di fratelli uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli questo monito che vale per tutti vale non solamente per i cristiani per i quali questa parola di gesù diventa un comandamento da mettere in pratica ma vale anche per tutti per ogni uomo per ogni donna di buona volontà che si sente impegnato a costruire dentro e fuori di sé un equilibrio che oggi è abbastanza precario quindi in questo fratelli ci siamo veramente tutti prima durante la preparazione del set tu mi parlavi di teodidattica sì noi siamo teodidatti così ci definisce giovanni l'evangelista così definisce gli apostoli e i discepoli di gesù l'evangelista giovanni perché noi siamo ammaestrati direttamente da dio oggi andiamo in cerca di tanti maestri che fanno per noi un lavoro che dovrebbe essere nostro proprio cioè pensano per noi agiscono per noi siamo nella società degli slogan di mass media basta che qualcuno urli da un palco un qualcosa che piace a tutti e noi tutti andiamo dietro abbiamo perso un po la capacità di discerni di discernimento su quello che che si dice la nostra capacità il nostro intelletto critico gesù ci dice che c'è un'unicità che appartiene a lui appartiene allo spirito e lui l'unico maestro interiore ce lo ricorda anche sant'agostino e a lui dobbiamo consegnare la nostra libertà lui è vero maestro perché il suo insegnamento non ci imprigiona non rende schiavo nessuno come a tanti molti e molti pseudo maestri che ci sono oggi le sue parole ci portano alla vera libertà e non ci fanno costruire attorno a lui uno spirito di adulazione di riverenza che in certi casi sono veramente mostruose mostruose quelle che costruiamo intorno ai nostri falsi maestri gesù ci porta verso una libertà e la libertà che lui ci conquista e ci dona va molto al di là delle false aspirazioni che il mondo spesso ci propone seguendo lui è sicuro che poi dall'altra parte si è tutti fratelli quindi insomma non c'è alcun problema nella relazione capita non spesso tu parlavi di relazione anche prima che ci si chiede insomma cosa può far felice l'altro è una bella domanda è una bella domanda riprendendo un film di aldo giovanni e giacomo che sicuramente i nostri telespettatori conoscono comico chiedimi se sono felice dovrebbe essere un po ribaltata questa domanda chi ho reso felice ecco il fratello il prossimo e su questa domanda si sofferma paolo pugni con il suo caffè ascoltiamo ma tu hai mai reso qualcuno felice che è una domanda piena di significato perché se non abbiamo reso almeno una persona felice che ci stiamo a fare qua qual è il nostro scopo nella vita se non rendere noi e gli altri felici ma noi non possiamo essere felici se non partiamo dagli altri se non rendiamo prima gli altri felici e questo felice vuol dire tantissime cose ci sarebbe non da fare un caffè ma da scrivere una biblioteca sulla parola felice cosa voglia dire realmente quale sia realmente il percorso per arrivarci ma fermiamoci su questa domanda tanto cruda quanto inquietante quanto appunto dicevo vera perché potremmo declinarla in mille modi diversi per essere per noi come una canzone che ci accompagna nelle giornate non è soltanto chi ho reso felice nella mia vita ma chi ho reso felice oggi quando è stata l'ultima volta che ho reso qualcuno felice in che modo l'ho reso felice che cosa ho fatto per alimentare la sua felicità per aiutarlo a sconfiggere quel demone che magari tutti i giorni li gratta dentro e lo spinge verso la disperazione o verso quella dissoluzione che è data dal non avere più nessun tipo di sentimento pensare di stare in superficie sulla vita in balia cambiando continuamente con quella fluidità che non è libertà ma è soltanto un grande sintomo della disperazione di qualcuno che non è capace di afferrarsi a niente e allora cosa ho fatto io per dargli una balaustra per dargli un pezzo di legno per dargli una tavola sulla quale trovare riparo in che modo mi sono dato da fare per aiutarlo a renderlo felice per aiutarlo per lo meno a uscire da quella infelicità e guardate che questo si può veramente andare a declinare in tutti gli ambiti sto pensando al lavoro sto pensando anche ai clienti fin dei conti se io lo vedo da un punto di vista meramente professionale aiutarli a uscire da un problema è un po' la stessa cosa sì un po' tirato per i capelli ma ci sta anche questo e allora se Aldo Giovanni e Giacomo ci dicevano chiedimi se sono felice oggi dovremmo farci un'altra domanda chiedi chiedimi chi ho reso oggi felice buongiorno e buon caffè ecco qua infatti ci ispira molto questo caffè grazie Paolo come sempre chi ho reso felice se ci facessimo tutti questa domanda veramente saremmo saremmo fratelli non solo di sangue di carne mi piace molto questa connotazione sull'oggi questa attenzione all'oggi i discepoli di Gesù hanno gli occhi aperti sull'oggi su questo momento e sbagliano sbagliano tutti quelli che dicono che la fede è un affidamento ad occhi chiusi no Gesù guarisce i ciechi nel Vangelo quindi Gesù ci permette di vedere bene la realtà che sta attorno a noi la fede ci permette di vedere e di vedere le cose che ci sono oggi non dobbiamo mai avere la tentazione del fariseo che vede nel passato lo scrigno di tradizioni che oggi dobbiamo riproporre in maniera sterile oppure nemmeno la tentazione dei discepoli di Giovanni Battista per cui sono si è sempre proiettati ad un futuro che deve arrivare ma man mano che noi camminiamo l'orizzonte si sposta sempre più avanti no evitando queste due assolutizzazioni dobbiamo fare in modo di incunearci nell'oggi che il Signore ci dona da vivere mai spostarci troppo mai focalizzare l'attenzione al di fuori del nostro spettro di vista sempre concentrati sul momento sull'attimo sul diem carpe diem che il Signore ci regala visto però in questo senso bene grazie fratello grazie a te grazie a voi grazie noi ci ritroviamo domenica comincio da te non si ferma qui perché vado mi sposto mi alleggerisco anche perché qui sotto i fari si sta un po caldi vado ad incontrare un frate cappuccino un altro fratello è sì un altro fratello vescovo di calta girone in questa giornata dedicata a san francesco a proposito auguri a tutti quelli che portano questo bellissimo nome e lui ha vissuto il covid sulla sua pelle quindi ascoltiamo ha ricominciato sicuramente da lui grazie ancora buona domenica grazie a tutti